Campo Tosto attende da anni, imbrigliato nel doppio cratere la ricostruzione, ma ora con la presentazione del programma straordinario di ricostruzione esteso anche alle frazioni si dà un'impronta e un impulso nuovo. Nella casa di comunità del comune montano, guidato dal sindaco Ercole di Girolami e alla presenza del commissario straordinario Giovanni Legnini è stato presentato il piano. Dopo il centro storico, il piano è di due anni fa, questo piano è esteso a tutto il territorio. Finora sono mancati progetti e imprese. Per la verità, procedure, progetti, presupposti sono stati posti da molto tempo. Gli elementi di crisi, l'aumento dei prezzi, 110 che ha assorbito imprese, professionisti ha ulteriormente rallentato. Adesso spero ci siamo, il municipio oggi apre il cantiere finalmente, una opera seppur piccola la inauguriamo e soprattutto viene presentato il programma straordinario di ricostruzione anche delle frazioni, dopo quella del centro storico. Insomma adesso c'è bisogno di imprese che lavorano e io mi auguro che arrivano. Ripeto, mancano progetti e imprese, questo è ciò che interessa. Per la verità i progetti negli ultimi mesi sono arrivati alcuni, ma occorre lavorare in questi territori per vedere rinascere un paese, un borgo, un territorio così bello come Campotosto. Una giornata importante che avvia con la posa della prima pietra di quello che sarà il nuovo municipio, un percorso che in cinque anni, stima il sindaco, dovrebbe vedere la ricostruzione completa di Campotosto e Frazioni. Inaugurato anche un piccolo bel vedere, un programma da 20 milioni di euro di risorse, altre ne arriveranno, per fortuna ci sono. Il problema in questi anni è stato lo spopolamento, pochi cittadini che sono rimasti. Noi abbiamo un piano speciale della ricostruzione localizzato sulla piazza del paese per la ricostruzione principalmente di sottoservizio efficiente. Adesso questo piano di ricostruzione lo abbiamo esteso a tutte le frazioni, quindi di conseguenza la ricostruzione sarà totale del territorio del comune di Campotosto e speriamo che si verifichi in breve tempo, dopo l'approvazione del piano. La gente non è rimasta perché dopo aver demolito una parte del paese a seguito del terremoto del 2017, quindi la gente è andata via. Ma questo è il problema principale. Il problema principale è l'allontanamento della popolazione da questi territori che già hanno problemi di spopolamento. Io continuo a ripetere che questo non è un comune di collina o di pianura, questo è un comune di montagna, è un comune che sta a 50 km di distanza dal primo centro, è difficile viverlo. Quindi noi dobbiamo fare del tutto perché cosa? Perché questa gente resti sì nella ricostruzione ma anche nel tessuto economico o produttivo del territorio.